ciao amici di youtube bentornati in questo nuovo video è arrivata l'arco noi siamo in maratona abbiamo pullato come dei matti adesso è il mio turno che probabilmente avrà un video a parte poi ci sarà un video con le pull di tutti banner tosti ho molta paura parto con il garantito anche se sono a pt basso basso però tanto vorrei prendere qualche charlotte quindi se magari durante il pt va bene allora io prendo la c0 provo l'arma e se poi riesco provo la c1 però l'arma probabilmente mi serve quindi speriamo bene io comunque vi invito a seguirmi sul sito viola dove siamo in live anche in questo momento per godervi i momenti in diretta che è la cosa più bella e poi vi auguro buona visione per questo video seguitemi su tutti i social che trovate in descrizione e vi mando un bacino e ci vediamo al prossimo video due singole e si va 3 2 1 let's go subito quattro selle charlotte no una spada ora ne esageriamo e due ok siamo a pt 20 si parte da pt 20 e si va verso l'iperspazio preghiamo bene siamo a pt 20 andiamo a pt 30 quattro stelle vediamo se una kiraroff banner arriva ok con lei inizio banner molto bene vuol dire che c'è un doppio quattro stelle probabilmente io poi vi ricordo che tutte le collei e tutte le paid usano delle pull perché io entrambe ci sei quindi è una cosa molto positiva vedere comunque questi quattro stelle perché se poi faccio la pazza converto qualche staglitter facciamo magari una multa in più se poi ho consumato tante risorse inutilmente vediamo ok adesso c'è il quattro stelle subito inizio molti pt siamo a pt 30 andiamo a pt 40 quattro stelle molto bene 33,3% periodico del quattro stelle quindi è uno del banner quindi o è una pull o è charlotte andiamo ok se sei in multi le armi sono forse anche più felice non so mai multi delle armi multi delle armi e andiamo a 50 quattro stelle niente ci ho sperato magari però c'è charlotte magari c'è charlotte lo so per dire magari nella multi c'è charlotte e infatti nella multi c'è charlotte tutti andiamo allora vediamo cosa abbiamo in questa multi se c'è un doppio dai doppia charlotte facciamo facciamo una sciuno frizzantina vediamo vediamo no andiamo a 60 quattro stelle si è garantito infatti sono tranquilla per quello sono tranquilla perché appunto è garantito e quindi si alleggerisce la tensione tanto poi butterò tutto nel banner armi che andrà malissimo una pull non c'è male una pull ci piace doppia pull ma che cos'è sta multi ma che cos'era ma che cos'era 4 4 stelle ma che cos'è ma è impazzita vabbè 4 4 stelle amici miei 4 4 stelle io non dico nulla 70 sta multi resta una roba pazzesca pazzurda assurda poi charlotte c1 quindi molto bene molto molto bene charlotte c1 molto molto bene ci siamo quasi eh ci siamo quasi quindi molto molto bene charlotte c2 il dream o kirara sì a caso c4 c3 non lo so va benissimo sì evviva evviva non ce l'ho costellato sì allora facciamo 4 singole 4 singole perché siamo a 70 quindi 71 perché io tiro la 74 ho le mie cose quindi è garantita let's go 72 73 74 ok molto bene we go io la vorrei doppia ok 70 questa è la 75 76 77 78 79 o lei 80 yes pt80 si è faticato ma ci siamo arrivati e la cosa ci piace vediamo siamo a pt40 ma pt50 4 stelle va bene siamo ancora un po' prima del pt quindi ci sta tutta vediamo qua 4 stelle non mi interessa nulla tutti i costellati le armine vorrei magari appunto uscisse Kirara perché sarebbe veramente bello sarei contenta ma Kirara ha scelto di abbandonarmi anche a questo giro non me l'hanno messa in retap ok 60 early oddio vomito oddio vomito oddio vomito oddio vomito no non è mai quella non è mai quella lì non è mai quella lì non è mai non è mai non è mai non è mai 51 52 De paura 53 54 55 56 57 58 Non è possibile Tutti 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 sto coso Non è possibile Però ho trovato subito Meno male 1 e 2 Non è possibile E mi mancava È nuovo Quindi Quindi vabbè Ok Però adesso fare altri due piti qua Oddio che ansia Andiamo a piti 12 Ok 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 Vediamo Kirara No 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 Allora Kirara non ci credo Se mi uscisse la seconda Vabbè una pull Se mi uscisse la seconda arma Early Sarai contenta Perché così poi la prendo la terza Perché io so che la seconda Cioè se perdi il primo Il secondo non lo trovo Non è Quindi Allora 12 22 Paolo cannone Paolo Non ci credo Allora Questa non è l'arma giusta Però almeno siamo sicuri Che arriviamo all'arma giusta Così Quindi va bene Questo era 13 14 15 16 17 Sì Qualcuno dall'alto mi ha voluto bene Qualcuno dall'alto Questa è Federica Che non voleva essere bloccata Questa è Federica Che non voleva essere bloccata Federica Sei salva Per oggi sei salva Oh Guarda L'arma di Baesu Manco l'ho fotografata Quella cesta di merda Nell'arma di Baesu Ma Se la tengano Ovvia Quella cesta di merda L'arma di Baesu Cocomi Hai una nuova arma Sei contenta Che sei sempre stata Con il thrilling Orribile Cocomi Hai una nuova arma Dai Metto il volume Che fa più ridere Così se volete Clippare a questo momento Perché ci sono 28 clip A questa live Che avevi fatto Così fa più ridere PT4 PT14 Vorrei qualche Charlotte Charlotte E Chirara No Frumina PT5 No ragazzi È scurato di là Qui adesso Arriviamo al PT Poi magari Spero di vincerlo Però si arriva al PT Secondo me Bello Proprio Charlotte Che Charlotte L'ho trovata Anche nella multi Di Furina Quindi è C1 Teoricamente Ho Charlotte C1 La C2 La vorrei Poi dopo Mi smollo anche Però la C2 La vorrei Che ha multi Delle armi Molto fortunata PC24 La magia La magia No Però magari C'è la cosa Però magari C'è la signorina No Con lei Con lei Da sola Ok PT34 PT Esther Ve l'ho detto Ve l'ho detto Che andiamo Al PT Ve l'ho detto Un'altra pool Molto bene Un'altra pool Molto bene Sì però Unisanto Un doppio 4 stelle Me lo puoi anche dare E multi da 8 Mi piacciono di più Che quelle da 9 Ok 44 I gatti Piti gatti Nulla Nemmeno i piti Nemmeno i piti gatti C'è venuto in confo Incontro In confo Non so perché Molto Vediamo se ora Siamo a inizio multi Nighi Nighi È in questa Questa è la multi Valentino Rossi Andiamo a piti 54 Niente Nemmeno Valentino Però dai Qui c'è Charlotte La dragosbane Molto bella Inizio multi Forse qua il doppio 4 stelle Vista inizio multi Ce la facciamo Con calma Con calma Ce la facciamo Andiamo Ok No Multi delle armi Ok Andiamo a 64 Niente Alpiti raga Io ve l'avevo detto Vero dicevo Che mi mandavano Alpiti Alpiti mi mandavano Oh meno male Mi usciva una Charlotte Prima perché Se no Veramente Non c'era Non c'era speranza Ok A se c'è Qualcos'altro Ottimo Proprio Il doppio 4 stelle Che sognavo Il doppio 4 stelle Che sognavo Proprio lei 74 Niente Alla prossima 5 stelle Vorrei doppio Sì certo Io stanca Di vedere con lei Nel mio account Che poi in realtà Mi sto rifacendo Un sacco di pull Perché se adesso Lo perdiamo La shoe non la prendiamo Però la prendiamo A pelo Quindi devo convertire Qualche star glitter Vediamo Che patienza Soft pity Guys Andiamo Questo è il contentino Va bene Questo ragazzi Il contentino Questo è il contentino Perché l'ho perso Questo è il contentino Perché l'ho perso Questo è l'ac2 Perché l'ho perso 75 76 77 Lo sapevo Lo sapevo Lo sentivo E l'avevo perso Lo sentivo E quello era il contentino 1 2 3 4 5 6 Questa è una presa Per il culo Questa è una Allegrissima Presa per il culo T20 Furina Early No No Puntiamo alla C1 Raga Perché alla C2 Non ci arriviamo Cioè adesso Mi prendo la garantita Non so quando E E poi Fosutina C3 Mi sembra C2 C3 Mi sembra Mi sembra Quindi sono contenta Considerate che ce l'ho C3 Abbiamo fatto un pt e mezzo E qua Rate veramente basso Della signorina Charlotte Rate veramente basso Però Però ce ne facciamo una ragione Ok Andiamo a 30 C3 Is Charlotte C6 She is C3 Un altro Rust Oggi Rust Today Thank you for the followers Guys You are the cutest Sì 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 ma per Nadia Mettiamo il banner Nuovo raga Tanto Nadia Se arriva nella prima parte Della patch Arriva intorno al 20 Di dicembre Quindi c'è tempo C'è tempo Per mettere i prossimi banner Bene Andiamo Siamo a 30 Andiamo a 40 Grazie 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 Ok pt 50 Pt 50 Dai furina No No Io tutti Tutti pt Tutti pt Signori Banner il personaggio Ultimamente io non riesco Ce l'ho C6 Io Ce l'ho già Already C6 E già Ci sei Bella Bellissima Bah Io ce l'ho già Ce l'ho già Bellissima Cioè Meravigliosa Però ce l'ho già You'll get it next Thank you Daniel I wish Garantisado Garantisado Garantito in Italian Garantito in Italian Andiamo a 60 Oh se doveva proprio piangere Per trovarla Comunque lasci uno Proprio piangere C4 Oh almeno quello raga Ok andiamo a 70 Perché se no non riesco a fare la cosa fatta bene Italian Italian Hai appena shoppato No no le avevo da parte quelle Sono quelle che mi sono rifatta pullando Cioè pullando avendo C6 Ogni C6 Personaggio è una pull Quindi tutte le idee E le colleghe che vedete Per me sono pull That is amazing I think the same My community is the kindest ever Ciao Alex Grazie mille Subito 75 Subito 75 Subito 75 Il dream Il dream ragazzi Il dream No 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 Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Manca il quattro stelle Sette Sette Otto Eccola E nove Pt50 Quattro stelle Niente Siamo i più poveri Dammi Charlotte Adesso Dammi Charlotte Faccio un putiferio Sì Ci sei Sì 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 Grazie a tutti.